Abbiamo dato inizio alla riqualificazione e al reastauro di due parchi importanti della città di Napoli, tra i più belli diciamo in Italia, ovvero la Villa Comunale e il Parco Virgiliano. Questi progetti prevedono il recupero della parte botanica, della parte architettonica, ma soprattutto la rivalorizzazione di quei ruoli che avevano perso il loro significato attraverso l'esteso depaporamento delle aree che era avvenuto nell'ultimo decennio. Quando riguarda la Villa Comunale saranno recuperate tutte le parti botaniche, saranno anche riassettate le aree relativamente all'aiuolo per aumentare la superficie di permeabilizzazione, saranno riorganizzate le aree gioche, le attuali tre aree gioche saranno revisionate in un'unica area gioche al centro della Villa e i lavori cominceranno da Piazza della Repubblica, arriveranno in modo completo fino alla Cassa Armonica, invece la restante parte sarà comunque inclusa il recupero della manutenzione ordinaria della parte botanica. Sarà ripristinato l'intero impianto idrico fognario, quindi l'impianto di irrigazione, l'impianto illuminotecnico. Il quadro del Parco Virgiliano anche in questo caso sarà recuperato l'intero accesso, il portale e il piazzale, recuperate le quattro alvere che sovrastano alle quattro colonne e poi la parte impiantistica per quanto riguarda sia la parte illuminotecnica che la parte dell'impianto di irrigazione. Sarà anche recuperata la parte relativamente all'area gioche con un'area didattica all'aperto e in più sarà completamente revisionata e manutenuta la parte agronomica.